. Da Tokyo, volano Muguruza e Pliskova, su Sulto Kerber. Scendono in campo le bighe a Tokyo. Torai Pan Pacific Open, la prima da numero uno di Garbina Muguruza. . La Spagnola trova sulla sua strada la portoricana Puig, campionessa olimpica. Che è partita nel primo parziale, la Muguruza fatica senza l'ausilio della prima. 64 per la nativa di Caracas, preludio a un secondo set senza storie. . Angelique Kerber concede invece il bis, ed è vittoria preziosa. Dopo la convincente apertura con la Osaka, la Teutonica incrocia la racchetta con la Kasatkina. . 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